Il viaggio nei costumi e negli usi di Pasqua in Irpinia ci conduce a Sant'Andrea di Conza per una tradizione che in realtà era ed è molto diffusa nei comuni della provincia vellinese. A Sant'Andrea si chiamano gigli pasquali e venivano considerati un vero e proprio rito votivo. In cosa consistono? Nella composizione di tanti germogli che adornavano il sepolcro allestito nel cappellone della chiesa di Sant'Andrea. Per la maturazione dei gigli occorrono 40 giorni, occorreva perciò avviarsi per tempo. Già dal secondo giorno di carnevale l'operazione aveva inizio. In un piatto o in un contenitore, magari in forma di croce, si deponeva uno strato di chicchi di grano, misti e pochi semi di altri cereali o legumi, preferibilmente cicerchie, in un dito d'acqua. Si lasciava macerare per 40 giorni al buio, avendo cura di controllare di tanto in tanto che non ammuffissero o, se era necessario, aggiungere un po' d'acqua. I semi, dopo aver rotto gli involucri, sviluppavano le radici dell'embrione, diventando vere e proprie piantine. Altrove si chiamano sepolcri, a Sant'Andrea gigli. Nel periodo di Quaresima, anche a Sant'Andrea, vigeva l'assoluto divieto di cibarsi di carne, pollo compreso, ma paese che vai, Pasqua che trovi.